Signore e signori, buonasera. Qui è Bill Baldwin che vi parla dal magnifico Spectrum di Tiradelfia, dove sta per avere inizio il secondo incontro fra Rocky Balboa, lo sfidante, e Apollo Creed, il campione del mondo in carica. Tu sei il numero uno, il campione, il più grande di tutti i tempi. Sei amato dalle donne, adorato dai tifosi, tutti ti amano, sei amato da giovani. Tu sei il migliore, tu sei l'unico. Rocky è tuo, è già battuto, non è degno di salire sullo stesso ring insieme a te. Stasera gli farei vedere chi sei, fagli vedere chi sei, stasera distruggilo. No, no, non ce l'ha fatta. Forza, dieci. Dieci. Si dice. Balboa ha partito regolarmente Rocky Balboa. Rocky Balboa ha stupito il mondo intero. E' lui il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Signore e signori, vince per Notteo alla quindicesima ripresa. Ed è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi, Rocky Balboa. E' andato forte. Balboa! Augusto. Scusate, scusate. Ancora non ci credo che sia successo. Non ci credo.